È iniziata oggi la tre giorni del raduno ricordando il battaglione L'Aquila, ormai punto fermo della tradizione alpina in città. Tre giorni ricchi di appuntamenti e iniziative che animeranno il centro storico con il calore tipico degli alpini. La giornata si è aperta al cimitero con la scoperta della nuova tomba di Michele Iacobucci, fondatore della sezione Ana Bruzzi. Una cerimonia breve sentita sotto gli ombrelli alla presenza del sindaco Pierluigi Biondi. È la settima volta, è vero. Ultimamente una volta il tempo, una volta altri eventi strani ci stanno un po' impedendo la festa meravigliosa degli alpini, ma noi insistiamo, noi andiamo avanti, siamo contenti che anche questa volta ce l'abbiamo fatta ad effettuare questo raduno, con difficoltà, però ce l'abbiamo fatta e credo che questo qui adesso sarà proprio argomento di discussione col comitato per verificare un momentino il futuro di questa manifestazione, come e quando sarà. Ma saranno diversi i momenti di approfondimento con convegne e sfilate, con il crew nella giornata di domenica, quando dopo le 10 partirà la sfilata dal biale di Colle Maggio sino ad arrivare in centro al castello, nelle tre serate, musica dal vivo nella zona di San Bernardino e anche l'area food. Come al solito si tratta di una manifestazione molto sentita che raccoglie alpini provenienti da altre parti d'Italia. Si tratta del settimo raduno.